Io dico spesso che sono stata fortunata ad essere cresciuta vicino a una discarica. Smog, gas, rifiuti, inquinamento, un quartiere molto difficile perché è stato sempre considerato proprio il rifiuto della città di Roma. E invece di lamentarsi, come al solito, di tutto ciò che non funziona. I cittadini di Massimina, attaccati con i denti proprio alla possibilità di contribuire al miglioramento di questo quartiere, hanno reso ciò che era brutto, bello e soprattutto condivisione e relazione. L'autoproduzione è proprio questo riflettere su ciò che ci fa male, ma è soprattutto una dinamica propositiva, un atteggiamento proprio di condivisione assolutamente controcorrente in un sistema sociale che porta chiunque alla competizione in qualche modo per sopravvivere. Non è utopico poter vedere le cose con la meraviglia e l'emozione di un progetto positivo come ad esempio quello di un orto. Piccole azioni, una guerriglia gardening, la pulizia di un parco pubblico, essere dei consumatori, mettersi insieme, creare un comitato. Non ci sono neanche costi per uno statuto, per fare un comitato bastano due persone. Questo credo che sia uno degli atti più rivoluzionari, la possibilità che possono avere le persone di condividere, di impegnarsi per la tutela della qualità della vita, di tutto l'ecosistema.